Buongiorno. Diversi cittadini ci hanno richiesto, visto le continue novità relative alle problematiche del coronavirus, di rinnovare la comunicazione anche attraverso questo mezzo, in particolare in relazione al nostro Comune. Noi dobbiamo davvero ringraziare i nostri concittadini per la scrupolosa osservanza delle restrizioni impartite dei vari decreti. È un grande segno di responsabilità e civico che davvero ci fa onore. Abbiamo provveduto in queste ultime quattro settimane ad una costante informazione cartacea con i mezzi sonori dei vigili, con i mezzi informatici del Comune che sono stati aggiornati quotidianamente e in particolare col servizio gratuito su WhatsApp e sui social. Tale informazione ci ha consentito di raggiungere la quasi totalità dei nostri abitanti. Cari concittadini, i problemi non sono ancora stati risolti, anche se tutti aspettiamo i primi risultati positivi, passato il cosiddetto picco dei contagi. Però per raggiungere questo obiettivo è necessario continuare ad essere responsabili. Dobbiamo rimanere in casa. Ripeto, dobbiamo rimanere in casa. Non sottovalutiamo il problema. Tutto dipende e dipenderà dai nostri comportamenti. È dura. È molto dura per ognuno di noi. Ma l'unica possibilità allo stato attuale per sconfiggere il nostro coronavirus è stare in casa. E questo, ripeto, dipende dai nostri comportamenti. Dipende da ognuno di noi. Allo stato attuale nel nostro comune non risultano contagi, se non alcuni casi di isolamento fiduciario di persone rientrate dall'estero, ovviamente nella responsabilità della privacy di ognuno di loro. Dobbiamo ringraziare la nostra Croce Rossa che si è messa a disposizione per la consegna a domicilio di alimenti e medicinali per coloro che sono impossibilitati agli spostamenti. Comeppure dobbiamo ringraziare i nostri medici e i farmacisti che tutti sappiamo quanto siano esposti per garantire la funzionalità dell'assistenza sanitaria. Uniti e legi ai consigli impartiti dalle istituzioni e dai comitati scientifici, supereremo questo momento così drammatica. In questa brutta guerra che investe il mondo sapremo rinascere nell'unità di tutte le componenti della società e forse saremo tutti migliori.